buongiorno a tutti e bentrovati nel canale arte allegra quest'oggi voglio condividere con voi un lavoro che ho fatto la settimana scorsa mi ci sono voluti sei giorni dovete sapere che quando c'è stato quel brutto tempo oltre ad andare distrutta la mia serra è andato distrutto il muro di confine fra la mia proprietà e un'altra il muro è stato ricostruito ma io non riuscivo a sopportare l'idea di vedere il muro con i mattoni a pista e quindi l'ho sistemato io non sarà il massimo di lavoro edilizio però io ne vado fiera vi lascio il video fatemi sapere cosa ve ne sembra come sempre io vi invito a iscrivervi al mio canale a commentare e a condividere i miei video con i vostri amici noi ci vediamo nel canale arte allegra ciao e una buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti